Rossi con gli sbagli che fai, sono quasi le 7.48, parole al massimo con Vittorio San, il nostro spazio quotidiano, intanto saluto Vittorio, buongiorno Vittorio. Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Allora, caro Vittorio, ci vogliono cambiare il Natale o perlomeno vogliono cambiare il nome, non sarà più Natale ma forse si chiamerà Festa d'Inverno perché l'Istituto Universitario Europeo vuole rinominare questa festa, cambiare per permettere a tutti di riconoscersi in un momento di serenità. Quindi questa mossa sarebbe inquadrata all'interno di quanto previsto dal piano per l'uguaglianza etnica e raziale. Eppunto tra le prime proposte è quella di ricorrere al nome Festa d'Inverno. Ovviamente nessuna decisione è presa, c'è un dibattito in corso, questo l'ha detto il segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, Marco Del Panta. Cioè, vogliono cambiare il Natale, forse non si rendono conto, secondo me è una decisione fuori luogo, ci dimostra la mancanza di rispetto per le tradizioni italiane e non solo, anche per il significato profondo che il Natale ha per tantissime persone, no? Sì, invece di recuperare il significato profondo esaltano il momento consumistico, perché poi di fatto è questo. Il Natale già da tempo è diventato qualcosa di meno religioso rispetto al passato, di meno intimo rispetto al passato. Se noi facciamo un'indagine probabilmente molti non conoscono a fondo neanche la simbologia del Natale, quello che il Natale porta con sé. Dal punto di vista religioso si è perso parecchio. Ormai il Natale dal punto di vista religioso ha mantenuto solamente il pretesto per poi fare consumismo, per fare società. Ed ecco che addirittura, invece che rilanciare il concetto religioso attraverso i valori di una religione, che sono valori di tante religioni, direi quasi di tutte le religioni, per riuscire a far capire che i valori del Natale sono universali, non sono solamente legati al cattolicesimo e al cristianesimo, invece di fare questo si fa l'esatto contrario. Cioè si leva tutta la matrice religiosa per tentare di trovare solamente i valori attraverso l'invocazione di questi valori, che andranno persi se si fa questo, perché è preferibile fare il processo inverso, mantenere la radice culturale del Natale e religiosa, fare in modo che si capisca che la matrice religiosa veicola dei valori che sono universali, e fare in modo che tutti si riconoscano non tanto nella festa religiosa, ma in quei valori universali. E' sempre questo il problema. A scuola molte volte mi sono posto il problema, ad esempio, in periodi simili a questi, perché sto parlando di circa vent'anni fa, avevo fatto leggere alcuni versetti del Corano. E lo avevo fatto perché si capisse che in quello che era il processo di creazione di una nuova religione, di divulgazione della nuova religione, c'era tanto anche del cristianesimo. Maometto, quando ha costruito la sua religione, aveva preso tantissimo anche dai valori cristiani. E invece di andare a proiettarci nel riconoscimento dei valori comuni, molte volte noi esaltiamo le differenze. Non le rispettiamo, ma le esaltiamo per non rispettarle. Cioè facciamo il processo inverso. Cioè noi andiamo a mettere in evidenza le differenze, non tanto perché diventino una ricchezza, quanto perché diventino un motivo di contrasto. E anche in questo caso rischi veramente di anacquare tutto, far perdere l'identità, non riuscendo a valorizzare l'identità. È incredibile, sembra quello che dice l'Unione Europea sia, scusa, il Vangelo quasi. Praticamente vogliono controllare, fare in modo che ci sia un'universalità attraverso altri concetti, invece che ricercarla nell'essenza delle cose. Cioè non la cerco dentro il Natale, questa universalità, la cerco in tutto quello che il Natale poi ha prodotto e che molte di queste cose che ha prodotto sono addirittura in contrasto, il consumismo è prosperato ad esempio, è nettamente in contrasto con i valori del Natale. Allora, cambiamo argomento, un messaggio che è arrivato ieri, io l'ho conservato ad oggi, te lo riassumo. Praticamente questo messaggio dice che raramente Claudio Ranieri non si è presentato davanti alle telecamere dopo una partita, non neanche dopo le sconfitte, lui ci ha messo sempre la faccia, quindi persona rispettosa, soprattutto del lavoro dei giornalisti. Però domenica ha saltato la conferenza stampa, segno che ciò che è accaduto in campo lo ha profondamente infastidito. E quindi ti chiedo, ha fatto bene, cioè da gran signore qual è un silenzio assordante che vale più di mille parole probabilmente, o no? Secondo te? Se ha scelto lui è probabile che potesse essere questa la motivazione, ma bisogna vedere se ha scelto lui. Non dimentichiamo mai che comunque Claudio Ranieri risponde, è un dipendente, e se non dipendente risponde ad una linea societaria. Se dopo la partita la linea societaria era quella di ci facciamo sentire noi come società, è meglio che non si esponga all'allenatore. All'allenatore è stato chiesto di non esporsi, è stato chiesto magari a Bonazzo di rappresentare la società. L'escessivo tweet di Giulini era in questo senso, a mio giudizio, quello di esporre la società invece che esporre la guida tecnica o i calciatori. Quindi non so se è stata una scelta di Ranieri quella di non partecipare a quella. La condivisa certamente, ma non è stata proposta, perché se Ranieri vuole, dice no, io oggi vado e credo che abbia l'autorevolezza, non l'autorità, l'autorevolezza che convince la società che è di un'opportunità diversa, invece probabilmente ha condiviso l'opportunità dettata dalla società, che era quella di non esporre coloro che sono i protagonisti in campo per far sentire la voce della società stessa, cioè di chi gestisce il gruppo, di chi gestisce la società per azioni. C'è un altro messaggio di Marcello. Tu hai sempre detto che quando si entra in campo bisogna guardare i giocatori che ci sono, non li assenti, no? Esatto. Però Barella, evidentemente, cioè scusa Barella, la Padula manca tantissimo, quindi Marcello dice visto che domenica era in panchina, c'è la possibilità che possa rientrare la prossima partita contro il Frusinone? Ma, visto quel che è successo con Mancoso, io ormai non escludo niente, cioè nel senso che Ranieri ha fatto capire che se ritiene che il calciatore abbia un certo numero di minuti di autonomia, possa anche utilizzarlo. Deve avere questa certezza, così come ha fatto con Mancoso, Mancoso all'improvviso si è ritrovato addirittura titolare capovolgendo un po' la partita. Quindi sì, nel momento in cui l'ha portato in panchina gli ha fatto sentire l'aria della prima squadra, forse lo ha portato anche come leader della squadra per tentare di far sentire la sua presenza ai compagni, e contemporaneamente però è anche un segnale, cioè nel senso che lui adesso è lì vicino, novembre è un passo, cioè si era parlato di novembre come rientro, la prossima partita è l'ultimo giorno di ottobre, anticipare un giorno potrebbe anche essere una possibilità. Chiaramente non possiamo pensare a un Lapadula che possa giocare 90 minuti, dobbiamo pensare a Lapadula che magari avrà come autonomia un certo numero di minuti. È chiaro che però, tornando sempre al discorso degli assenti, la cosa roboante della partita scorsa è che per 80 minuti abbiamo giocato senza Petagna, senza Pavoletti e senza Shomulodov. E a mio giudizio negli ultimi dieci minuti quando abbiamo fatto due gol, soprattutto quando abbiamo fatto il secondo gol, abbiamo dimostrato che forse credendoci un po' di più nella possibilità di fare gol, lo potevamo fare quel gol anche negli 80 minuti precedenti, quando magari c'è anche Dossena in campo. Ciao Vittorio, a proposito di Mancosu, Ragnera ha utilizzato un attacco a tre con Oristagno, Luvumbo, appunto Mancosu. No, non è un attacco a tre, ma è un trequartista con due attaccanti, tanto è vero che il modulo poi lo ha collaudato per poi riproporlo nel secondo tempo con l'ingresso di Viola in quel ruolo al posto di Mancosu. Infatti, il messaggio dice pensi che riproponga lo stesso modulo? È molto probabile perché poi abbiamo visto che ha pagato. Io proporrei però una coppia di attaccanti veri, cioè nel senso che Luvumbo va bene, Oristano va bene, ma secondo me uno ha un'alternativa all'altro e metterei un attaccante di peso, cioè o Shomuro che è il Cavalleggero nella zona d'attacco o Pettagno o Pavoletti. Io devo essere sincero, domenica dal sessantesimo in poi per almeno 20 minuti ho reclamato il mancato intervento e il mancato ingresso di Pavoletti che a mio giudizio era l'uomo giusto per quella partita considerato che è un giocatore di quelli che fa la guerra dentro l'area del rigore e noi ne abbiamo fatto passare diversi palloni all'interno dell'area del rigore che sono passati alti rispetto ai giocatori che avevamo e in un'area poco affollata. Insisto, secondo me abbiamo dimostrato dopo aver subito l'1-1 quando abbiamo fatto il 2-1 che avevamo le potenzialità per segnare anche non negli 80 minuti precedenti ma anche e soprattutto nei 20 minuti precedenti. Allora, chiudiamo una bella notizia nel senso che l'Inter ha battuto 2-1 nel Salisburgo quindi insomma questo è un importante passo in avanti verso la qualificazione agli Oteva di Champions League ma la bella cosa è che nel secondo tempo ieri è entrato Barella che è stato accolto da una standing ovation dalla Curva Nord dopo il caso scommesse in cui non è assolutamente coinvolto come abbiamo detto perché la talpa di Fabrizio Corona ha chiesto scusa Barella dice ho sbagliato a nominarlo mi sono confuso dai ragazzi c'è veramente fa parte del gioco ma ripeto l'ho detto la volta scorsa sull'onestà di Barella non avevo dubbi neanche io avrei gestito dal punto di vista comunicativo in modo diverso perché poi la verità viene fuori e tu poi vieni fuori con l'immagine giusta anche da questo senza dover usare magari una reazione troppo impulsiva che è tipica di Niccolò che fa parte del suo carattere che forse è la sua forza però ecco giusto così alla fine è andata bene è andata molto bene va bene Vittorio grazie buon lavoro e a domani sempre alla stessa ora buona giornata anche a te Massimo buongiorno a tutti ciao grazie ciao